Torino è la prima città che già dal 2004 ha ceduto il stadio delle Alpe a Juventus con l'obiettivo di farne un luogo in cui si veda meglio il calcio ed anche un luogo di riqualificazione urbana del territorio che sta attorno allo stadio. Anche il Torino dovrebbe poi avere un suo stadio, intanto prima c'era Galliani e ha detto che è un sogno per i milanesi poter avere un stadio. Mi auguro che l'esempio di Torino serva anche per le altre città come strada su cui modernizzare il sistema calcio in Italia.